Sono passati 160 anni dal 17 marzo 1861, quando a Torino, nell'aula provvisoria del cortile di Palazzo Carignano, veniva proclamato il Regno d'Italia. Un anniversario che il Museo del Risorgimento ha deciso di celebrare con la presentazione del suo nuovo logo ideato dagli studenti dell'Istituto Europeo per il Design e con un convegno in streaming per riflettere su quanto sia attuale oggi la ricerca di unità attorno ai valori costituzionali di partecipazione e di cittadinanza attiva. Abbiamo voluto celebrare il 160esimo anniversario dell'Unità d'Italia su un doppio piano di lettura. Uno la comunicazione della nostra immagine visiva, del nostro nuovo logo, l'altro declinando l'anniversario sul terzo settore, su quelle donne, quegli uomini, quelle ragazze e quei ragazzi che ogni giorno si impegnano nel sociale e sono anche di grandissimo supporto al mondo della cultura. E' nato così, oggi è già storia, l'incontro online trasmesso in diretta mercoledì 17 marzo dalle sale del Museo del Risorgimento. Attraverso testimonianze e riflessioni ha raccontato il non sempre facile cammino delle conquiste sociali e del volontariato. Ad aprire i lavori per ricordare l'eccezionalità di questo 2021, anniversario dell'Italia Unita e anno dedicato a Dante Lighieri, il ministro della cultura Dario Franceschini. Questi 160 anni coincidono con un altro grandissimo anniversario, i 700 anni della morte di Dante. Nel 1865, quindi quattro anni appena dopo l'Unità d'Italia, il primo grande luogo di celebrazione fu un ricordo dell'anniversario della nascita di Dante e fu il primo momento in cui in tutta Italia ci fu un riunirsi della comunità nazionale dal punto di vista statuale appena nata attorno alla grande figura di Dante che possiamo definire veramente il padre della patria, il padre d'Italia. Sostenuto dal Consiglio regionale del Piemonte e dalla città di Torino, oggi Egi Astori ha celebrato in particolare i volontari e quanti operano nel terzo settore, cittadini che oggi come 160 anni fa hanno deciso di spendere la propria vita per una giusta causa a sostegno del Paese. Anche oggi abbiamo bisogno di speranze, di progetti e di unità, di intenti per sconfiggere un nemico che si chiama Covid per favorire la rinascita del Paese. Sono esemplari e ringrazio le figure di chi continua a lavorare in prima linea nella lotta al virus, persone che stanno facendo molto di più del loro dovere in senso stretto con uno straordinario spirito di sacrificio. Grazie.